Con deliberazione del presidente di Roma Natura, Maurizio Gubbiotti, è stato approvato ufficialmente il percorso ciclopedonale denominato Sentiero Trilussa all'interno della riserva naturale di Decima Malafede. Si tratta di un riconoscimento che intende valorizzarne il patrimonio naturalistico e culturale, ha dichiarato Gubbiotti. Abbiamo voluto dare seguito all'impegno assunto con le realtà territoriali che con passione hanno promosso la creazione del tracciato, prendendosene cura ogni giorno. Con questa istituzionalizzazione intendiamo garantire una mobilità dolce e un turismo sostenibile, valorizzando le risorse ambientali, turistico-culturali dell'area e inserendo interventi di promozione in un contesto più ampio che consideri la peculiarità del luogo. Un sentiero di partecipazione che, costeggiando il corso del Fosso di Malafede, forma una sorta di cerniera tra la tenuta presidenziale di Castelporziano e le riserve naturali del litorale romano e di Decima Malafede. Il percorso racconta una lunga storia da conoscere e riconoscere nell'interesse collettivo, rafforzando un modello di fruizione sostenibile, incentivando l'accesso diffuso e la valorizzazione delle risorse paesaggistiche, ma anche l'uso consapevole del territorio attraverso le buone pratiche per la rigenerazione urbana secondo i criteri di sostenibilità. Anche un modo per ricucire la città, riconnettendo quartieri attraverso corridoi ecologici e aree protette, ha concluso Gubbiotti.